All'inizio eravamo alla Comacina, appunto lo spazio di cui parlavamo prima, che è sempre qua sul Cassarate ed era un piccolo, ha appunto il nome, dice l'origine, cioè... Ma la Comacina adesso è attivo come spazio? Sì, sì, perché è diventato una galleria, appunto un piccolo spazio espositivo dove facciamo soprattutto esposizioni di arte urbana, appunto come quella di Alex Dorici che partirà tra qualche... Ludovica, la Comacina è molto lontano da qua come spazio? La Comacina è qua dietro, è sul Cassarate. Riusciamo ad arrivarsi dopo? Sì, c'è. Ah, ecco, perfetto. Allora, è la seconda tappa, facciamo la Comacina. Sì, sì, sì. Allora, quindi... Siamo nati da lì, appunto, con l'idea di che fosse un luogo d'incontro e anche insieme di cultura. L'idea semplicissima con cui siamo nati era di poter rimettere a disposizione della città quella parte di cinema che era più difficile da trovare, quindi titoli che pescavano nella grande tradizione cinematografica che però si facevano ormai fatica a trovare in città. E siamo partiti con una selezione che vedremo perché ormai adesso ci sono 20.000 titoli tra CD, libri, VHS, audiolibri. Lo spazio è questo che vediamo o ci sono altri locali? E questo? Poi c'è il corridoio. Andiamo a vedere il corridoio. Mettete tutti le cuffie. Noi siamo... Anna, siamo già in onda, eh? Sì, sì. Allora, vediamo gli altri spazi, sì. Questo, i registi americani, europei, italiani e gli asiatici è la prima scelta di titoli con cui siamo nati. 3.000 titoli, appunto il cuore della grande tradizione cinematografica mondiale, siamo partiti da lì. E siamo nati subito con il DVD o con il VHS? Siamo nati con il DVD e poi adesso abbiamo anche tante VHS, frutto anche di tante donazioni che la gente ci fa. Anche perché con i VHS non sa più che farsene. Eh, però in realtà abbiamo... ci sono tante cose bellissime che ci sono... I VHS che in DVD non sono state editate. Esatto, esattamente. Ma quindi le masterizzate anche o no? Ma per ora teniamo tutto così. Così. Questa cos'è? Questa qua è la sala del teatro. Che gestite voi? Quindi rientra nella Gorateca il teatro? Nel di Castero Giovanni. Ah, nel di Castero che ovviamente gestisce tutto. Questa sera appunto ci sono. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Bene, ecco, il giusto rumore, amiamo i rumori di fondo. Ecco, questo è lo spazio. Questo è il teatro che c'era... Ci vediamo più tardi per questa sera, eh? Esatto. Ciao Luca. Eh beh, era per salutare. Passiamo più tardi, siamo qui a fare il World Show. Abbiamo fatto la prima tappa di partenza qui.